Assessor Pan ha superato lo scoglio di crediti verso i consorzi di bonifica, ora si può parlare di progettualità futura. I consorzi hanno già pronti 123 progetti per la sicurezza idraulica e altri 39 da inserire nel piano irrigo nazionale. Quale sarà il ruolo della Regione? Noi abbiamo già avuto un momento di incontro con i consorzi importante, abbiamo sistemato in questi mesi tutti gli arretrati che naturalmente erano in fermi perché ci sono stati tutta una serie di cambiamenti nel passaggio tra una legislatura e l'altra. Stiamo assolvendo i nostri crediti anche verso le imprese che hanno lavorato per i consorzi e quindi è importante che questo sia anche come ricaduta economica del territorio. Adesso abbiamo il futuro davanti, abbiamo tutte queste importanti opere da fare di manutenzione, ci sono progettualità già pronte, siamo riusciti in questi mesi anche a portare avanti le concessioni sulle derivazioni che ci apriranno grandi finanziamenti sul piano irrigo nazionale e quindi ci aspettiamo per il vendito almeno 70-80 milioni da Roma da investire direttamente nel territorio per la messa in sicurezza dei nostri fiumi e delle nostre reti minori. Io personalmente si tengo molto soprattutto ai piccoli torrenti e naturalmente alle manutenzioni dei fossati e di tutte quelle opere irrigue che portano l'acqua anche alla nostra agricoltura e credo che proprio il ruolo della Bonifera sia questo, proprio di portare l'acqua dove l'acqua serve, portare l'acqua dove i nostri agricoltori hanno bisogno e naturalmente mettere in sicurezza il territorio. Abbiamo delle tempistiche per il piano irrigo nazionale, i primi finanziamenti quando si vederanno? Io penso che se il governo sbloccherà finalmente questi 300 milioni che sono fermi lì a Roma entro l'autunno noi saremo già in grado di operare. Noi siamo forse la prima regione con i nostri costi di bonifica a essere pronta con già i progetti pronti.